Questa è un'azienda che sempre mi propone, sempre è un pezzettino avanti, che anticipa un po' i tempi, perché noi siamo conosciuti sul mercato per questo. Le fonti di ispirazione di quest'anno, la collezione che presenteremo a proposte, perché quest'anno vorrei dare al mondo dell'arredo, ai clienti, alle persone che verranno, tutte le capacità che questa azienda può avere e può fare, provocando anche, come mi è sempre piaciuto provocare. Per esempio abbiamo sviluppato un disegno art deco, diciamo, tra parenti, geometrico, però con questa tecnica, dei vecchi tappeti persiani usati, eccetera, per cui proprio stramato, usato, ma non mettendo sotto il classico disegno a tappeto, ma una cosa geometrica e legata a un periodo storico, quello è il deco, sempre propositivo e bello. Abbiamo proposte di velluti, con disegni innovativi, ma con questa tecnica, dei velluti di seta, di organzino, con inserti d'oro, sono molto preziosi, per cui veramente andiamo a completare una gamma di proposte e di tecniche incredibili. Anche per quest'anno la nostra proposta, in termini di jacquard e stampati, è molto ampia e cerca di andare a coprire quelle che possono essere tutte le richieste e le esigenze dei nostri clienti, provenienti da tutto il mondo. Resta comunque il nostro grande punto di forza e della nostra eccellenza, per la quale siamo conosciuti e i clienti ci apprezzano, la capacità di saper poi trasformare queste idee anche in cose più particolari e più customizzate per quelle che sono le esigenze sia stilistiche che coloristiche dei nostri clienti. Grazie a tutti.